Al Colangelo, Penne e Sambuceto scendono in campo per il recupero della 28esima giornata. Una sfida di vitale importanza in ottica salvezza diretta, con i padroni di casa che sono reduci dai 23 minuti giocati con una buona intensità domenica contro la Vezzano, mentre gli ospiti si presentano a questa sfida dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta ad Opera della Torrese. Un minuto di silenzio prima della gara e lutto al braccio per la formazione vestina, per la scomparsa di Lanfranco Rossi, padre del vicepresidente pennese Giovanni Rossi, avvenuta nel pomeriggio di ieri dopo il malore che lo ha colpito proprio sulle gradinate del Colangelo domenica scorsa. Condoglianze alla famiglia Rossi e alla grande famiglia pennese. Il Sambuceto parte con il piede sull'acceleratore e si ora il vantaggio dopo 4 minuti con Bruni, che riceve da Pellecchia, ma in diagonale non batte d'amico. Al 17esimo arriva il vantaggio ospite con l'invenzione di tacco di Pellecchia che libera Ranieri. Il numero 20 calcia potente e preciso, nulla da fare per d'amico. Prova a rispondere subito il penne con un'azione personale di Silvestri, che scambia con Cellucci. Palla di ritorno per il numero 4, Dedeo è attento e respinge. Il capovolgimento di fronte vede Pellecchia impegnare d'amico alla respinta con i pugni. Al 28esimo Ranieri sponda per Pellecchia, d'amico blocca in due tempi. L'estremo difensore di casa capitola al 37esimo, quando il corner di Pellecchia prende una strana traiettoria e dopo aver baciato il palo si insacca in porta per lo 0-2. Risultato che abbatterebbe chiunque, ma non il penne, che rientra in partita prima dell'intervallo, grazie alla rete dal limite del classe 2004 Cutilli. Nella ripresa il penne alza il ritmo alla ricerca del pari. Prima medaglia si inserisce in area, diagonale impreciso. Poi Fulvi impenserisce Dedeo con un tiro dalla lunga distanza. Sull'altro versante è sponda di Bruni per la corrente Ranieri che non trova la porta. Al 13esimo Cacciatore da corner pesca Silvestri, che di testa non inquadra il bersaglio. Al 23esimo prova a chiudere la Pellecchia con un tiro a giro che si spegne sul fondo. Al 41esimo arriva l'episodio decisivo. Viegas Barriga batte al centro dell'area una punizione da posizione defilata. Pallone ribattuto, Cacciatore si coordina alla perfezione e batte Dedeo per il 2-2 finale, che muove la classifica di entrambe. Sicuramente, il primo tempo l'abbiamo quasi regalato a loro, nel senso che abbiamo giocato troppo sotto ritmo. Un po' la paura, perché comunque stiamo verso la fine del campionato, quindi ci stiamo giocando tantissimo. Poi dopo la situazione che ci gira attorno, quello che è successo, siamo partiti un po' contratti e quindi l'abbiamo pagata il primo tempo. Siamo stati bravi a recuperarla, subito al primo tempo abbiamo fatto golle fino al primo tempo, il secondo tempo penso che poi non c'è stata partita. Abbiamo giocato, penso solo noi, abbiamo creato qualche palla a golle, però è chiaro che siamo un po' rammaricati per il fatto che volevamo i tre punti, però va bene così, mi è piaciuta la reazione della squadra, ci tenevamo a vincere questa partita soprattutto per dedicarla al nostro vicepresidente per la scomparsa del papà e adesso è inutile pianticere addosso, quindi dobbiamo pensare alla prossima che domenica è un'altra finale per noi contro l'Angolana e niente, questo sappiamo, il tragitto nostro è questo, sappiamo l'obiettivo qual è, mancano a noi, mancano sei partite e dobbiamo cercare di fare più il massimo per cercarci di salvarci diretti. Mister, possiamo parlare di un bicchiere e mezzo vuoto visto l'andamento della gara? Eh sì, c'è tanta tanta amarezza perché la squadra oggi ha fatto una grandissima partita, la disattenzione che abbiamo commesso a fine primo tempo l'abbiamo pagata a caro prezzo perché rientrare sul 2-0 è un discorso, 2-1 ne era un altro, però fino a quel momento abbiamo fatto bene, ma anche il secondo tempo abbiamo avuto quell'occasione con Ragneri se la stoppa invece di tirare di prima è tutta la porta libera, quindi ai punti strameritavamo la vittoria, oggi la squadra ha fatto una grande partita di grande temperamento, con una squadra forte e sapevo che oggi qui era durissima. Purtroppo due episodi, due situazioni, il cacciatore ha fatto un grande gol e ai punti avremmo strameritato la vittoria, però ci teniamo stretto questo pareggio perché comunque ci permette di salire a quota 37 e di mantenere invariato il distacco col penne anche se deve recuperare due partite. Quindi c'è un po' di amarezza per questo motivo perché la squadra oggi ha corso tanto, ha fatto guardativamente una gran partita e l'avremmo meritata, però va bene così.